Eeeeeee Ma magari non ho pensato a che si trascute e ci sono un altro senso Ma magari pregandola a la porta di lontano Talcomo evo buonate le nostre proclamate Non stanno pensando a lei di un spettone per alzare un invo Non sapremo operare un relato, meglio pensate, occhi di cristallo Oggi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti